Macron ha cominciato andando in Cina e mostrando una certa corrività nei confronti del regime di Pechino. Ha detto che non è interesse europeo, piccola nota a margine, quando i francesi parlano di Europa parlano di se stessi. Dicevo che l'interesse europeo non è quello, secondo Macron, di andare a fare la guerra a Taiwan, ma è quello di restare al di fuori della contesa tra Cina e Stati Uniti di non farsene invischiare, insomma di non combattere guerre altrui. E ha ripetuto una vecchia formula gollista, noi siamo alleati ma non siamo allineati. Insomma l'idea di un terza forzismo francese che in nome dell'Europa occupa uno spazio fondamentale nella contesa di fondo tra Stati Uniti e Cina e quindi indirettamente anche tra Stati Uniti e Russia. Grazie. 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 Grazie.